Ciao a tutti, eccoci qua con un brevissimo video tutorial per mostrarvi come sia semplicissimo utilizzare il vostro smartphone per non perdervi durante le vostre escursioni in montagna nebbia, foreste, bolli sul sentiero poco visibili non saranno più un problema per fare tutto questo utilizziamo un software che si chiama Orux Maps, vi lascerò poi il link in descrizione è un software completamente gratuito, lo potete scaricare dal Play Store per Android e vediamo ora come funziona allora una volta aperto il software si presenta in questo modo queste sono delle barri a scomparsa, ecco si presenta in questo modo andiamo innanzitutto a scegliere la cartina per la zona che ci interessa in questo caso noi siamo nelle valli di Lanzo ad esempio andremo a scegliere la cartina come si fa? allora si clicca su questo pulsante si apre questa finestrella in cui andiamo a scegliere cambia mappa si apre un elenco di mappe sono tutte mappe disponibili con diversa risoluzione diversa grafica io trovo che sono molto interessanti quelle di OpenStreet ma per l'escursionismo ancora migliori sono forse queste qua della Top4U Maps andiamo dunque a scegliere questa la cartina viene caricata siamo ovviamente collegati al router, a internet quindi ovunque andiamo la cartina viene poi come potete vedere man mano scaricata da internet è un po' lentino comunque alla fine arriva scelta la zona di nostro interesse ad esempio supponiamo di dover fare un'escursione in questa zona in questa zona cosa andremo a fare? andremo a rimpicciolire un po' la cartina e andremo a salvare questa zona di nostro interesse per fare questo andiamo sempre su questo pulsante in cui c'è un simbolino di cartina e andiamo a scegliere il menu creatore mappe ci dà la possibilità di scegliere due punti sullo schermo per definire un quadrato ossia un'area entro il quale la cartina verrà salvata sul nostro smartphone andiamo quindi a selezionare un'area piuttosto ampia in modo tale da poter avere anche una visione limitrofa dei sentieri ad esempio una visione di questo tipo andiamo a dare l'ok cliccando questa spunta blu questi livelli che vediamo qua sono i livelli di zoom li andiamo a selezionare tutti andiamo a dare un nome alla mappa ci dice già che approssimativamente peserà 7 MB quindi è una quantità ridicola diamo un nome alla mappa scegliamo non interrompere il download se vi sono tasse di mancanti diamo un nome alla mappa prova ad esempio anzi no chiamiamola col suo nome Bella Varda Bella Varda e avviamo il download ecco ci appare questa finestrella ci comparirà una cosa di questo tipo cambia mappa offline la cartina comparirà qua ecco Bella Varda dove sono andato forse l'ho fatto un po' in fretta andiamo qua sulla cartina cambia mappa anziché online che sono quelle che come abbiamo visto prima sono scaricabili andiamo su offline dove ci sono quelle salvate quindi andiamo ad esempio a scegliere Bella Varda che è quella porzione che abbiamo selezionato prima e come potete vedere il nostro segmento di cartina è disponibile è questo possiamo andare a zoomare per guardare il sentiero la parte che ci interessa e esplorare la mappa a questo punto sarà sufficiente ovviamente qua adesso in casa non posso farvelo vedere perché non c'è segnale comunque sarà sufficiente andare a schiacciare questo pulsantino in cui si avvia il GPS se non avete il GPS abilitato in Android dovete abilitarlo per far comparire ecco andiamo ad esempio ad abilitarlo torniamo indietro accettiamo ecco a questo punto lui vabbè tracking GPS attivo ho toccato la camera tracking GPS attivo si avvia la ricerca satellite ovviamente qui non prende e comparirà un pallino una freccetta rossa che vi indica la vostra posizione sulla cartina quindi in questo modo potrete facilmente orientarvi buon tracking e buone escursioni a tutti grazie a tutti grazie a tutti